Marina Di Guardo, buongiorno. Buongiorno Livio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, come state? Bentornata, si sta bene qui in questo posto a raccontare, condividere, e condividere il nuovo romanzo, il nuovo thriller di Marina Di Guardo, romanzo pubblicato da Mondadori, Dress Code, Rosso Sangue. Ecco, per Dress Code ormai tutti quanti, o quasi, sappiamo che è l'abito che uno si deve mettere quando partecipa, che ne so, a un aperitivo, a un matrimonio o qualche cos'altro. In ogni modo, in un certo modo potrebbe essere considerato una divisa, tra virgolette. Leggo nel risolto di copertina che Marina Di Guardo vive tra Cremone e Milano e prima di dedicarsi alla scrittura ha lavorato come vice direttrice dello showroom di Blu Marina. Ho letto questo perché penso che sia un dato molto importante a Marina Di Guardo, perché questo romanzo sicuramente è nato molto tempo fa, almeno come idee, come pretesti, come indicazioni, come situazioni vissute, non certamente questa Rosso Sangue, ma in ogni modo qualche cosa nasce da quel tempo quando Marina Di Guardo era impegnata in uno showroom di moda. Assolutamente, come dici tu Livio, io ho lavorato in questo showroom di moda di Blu Marina per tanto tanto tempo e è stata un'esperienza bellissima, un'esperienza molto formativa che mi ha regalato tante suggestioni, tante conferme e anche tanti insegnamenti perché era un luogo davvero pieno di stimoli, pieno di interessi e io mi occupavo del settore vendite, ovviamente non ai privati, ma le persone appunto che avevano boutique in tutta Italia e ai buyer che portavano gli addetti degli acquisti di tutti i store più importanti del mondo e quindi avevo a che fare con una serie molto eterogenea di persone ed è stato veramente interessante conoscere così tanta gente con abitudini, gusti differenti ed è stata anche una palestra importante per formare una certa empatia, per capire immediatamente che mi trovassi davanti e capire quello che veniva ad acquistare nel nostro showroom. Avevamo una struttura con diverse stanze in cui era divisa la collezione, poi facevamo una stilata per mostrare ai clienti i nuovi look ed era più o meno quello che ho raccontato nel mio romanzo e Cecilia è una ragazza che inizia dai compiti più facili, più umili, come portare il caffè, il tè ai vari clienti che venivano a fare questi ordini, ma poi pian piano brucia le tappe e arriva a essere poi come vedremo una figura di ruolo, di spicco dentro questo showroom. Quindi sicuramente ho vinto moltissimo dalla mia esperienza, ma anche mi sono fatta consigliare da persone, mi sono fatta dare delle suggestioni da persone che ci vivono talmente nel mondo della moda, perché questa storia è praticamente raccontata nel mondo contemporaneo, quindi ecco mi sono rifatti ai ricordi, ma anche a quello che succede adesso. Anche a quello che succede adesso e quello che succede in questo romanzo, Marina Di Guardo ha già citato, Cecilia Carboni che è colei attorno al quale gira grande parte di questa storia, ma lei spera in un futuro, è come dar torto a Cecilia Carboni, non sperare nel futuro per la sua bravura, per la sua capacità, e un giorno però succede qualche cosa, come nei romanzi, come in tutte le vite di ognuno, certo nei romanzi forse è un pochino più esasperato, ma perché è condensato in una storia, in 300 pagine, come in questo romanzo. Ma andiamo a conoscere Marina Di Guardo, Franco Sartori. Franco Sartori, per chi non lo conoscesse, lo ricordiamo, è uno degli stilisti più celebri al mondo, ovviamente in questa finzione. Certo, ho usato un nome di fantasia, però mi sono rifatta alla conoscenza che avevo avuto tantissimi anni fa di Franco Moschino, anche se devo dire, e ho preso solo una parte del carattere di Franco Moschino, del suo modo di relazionarsi con le persone, una persona che avevo conosciuto come solare, come piena di vita, come molto estroversa, molto aperta anche agli altri, quindi ho voluto dare queste connotazioni psicologiche anche al personaggio che descrivo, che purtroppo lo diciamo subito, questo lo possiamo spoilerare, viene trovato in un contesto davvero così inquietante, in un casolare in rovina e nelle vesti di un cadavere praticamente. Quindi questa persona che apparentemente scompare subito dalla scena, poi viene ricordata nei vari flashback da Cecilia e viene ricordata per quello che era una persona umana, dolcissima, piena di slanci, piena di attenzione e di sensibilità. Poi ovviamente questa persona non presentava delle connotazioni che potevano essere adatte per il ritrovamento di cui era stato visto. Cecilia si ritrova improvvisamente ad andarlo a riconoscere, in questo caso l'area in rovina, con uno scenario da messa nera. Quindi subito si fa delle domande, si chiede come è possibile una persona così bella, solare, attenta agli altri, che non lasciava per niente presagire questo tipo di propensione verso certi ambienti, viene ritrovata in un contesto così. E da qui inizia un'indagine personale col suo più caro amico che è Fabio e decide di andare a fondo in tutta la situazione. Ma questo costituirà per lei una caduta verticale negli inferi. Eh sì, una caduta veramente verticale, però a un certo punto all'inizio del romanzo c'è qualcuno che dice «une chose terrible, Francaux» è Madame Georgette, Georgette Lazare. E Georgette Lazare è una signora che rema contro, a qualcuna in particolare, ma forse rema contro anche contro lei stessa. Certo, io ho amato molto questo personaggio, oltre a quello di Cecilia, di Fabio, anche di Franco e anche altre piccole figure che sono magari state tratteggiate più come dei camei. Ma la figura di Georgette Lazare è subito presente nelle prime pagine ed è una donna di origine francese, bellissima donna, ex indossatrice, ma molto dispotica, molto rigida. Avverte questa ascesa inarrestabile, irresistibile di Cecilia e vorrebbe contrastarla in tutti i modi, con critiche, con situazioni in cui la fa sentire che non è all'altezza. Ma però questo personaggio, vi assicuro, riserverà delle sorprese durante la narrazione e chi leggerà si renderà conto anche di questo. Marina Di Guardo, questa storia è una storia molto complessa perché necessariamente quando si scrive e per quanto riguarda noi leggere un thriller il thriller deve essere molto complesso. Perché qui lo scavo che Marina Di Guardo fa, forse in maniera diversa rispetto alle storie precedenti, è uno scavo psicologico, perché non è semplicemente, ed è già qui, semplicemente si fa per dire, trovare il bandro della matassa, scoprire il colpevole, farsi strada, soprattutto nel caso di Cecilia Carbone, a cui pagina dopo pagina non possiamo che volerle sempre meglio. Però qui lo scavo psicologico che l'autrice realizza è veramente importante. Io credo che lo scavo psicologico, l'introspezione dei personaggi dà quel valore aggiunto in più a un thriller perché è chiaro, a me è capitato diverse volte di leggere thriller cui tutto era puntato sulla trama vincente, sulla trama page turner, come dicono gli americani, quella che non ti fa lasciare il libro sul comodino a prendere la polvere, ma che ti fa, come dicono appunto in questa espressione inglese, continuare a girare le pagine perché non riesci a smettere di leggere perché vuoi capire come va a finire. Ecco, questo secondo me è un elemento importante di un thriller, ma non è a mio parere sufficiente perché credo che un altro elemento che sia totalmente indispensabile è appunto lo scavo psicologico perché ci fa sentire più dentro la storia, fa rivedere anche nei personaggi apparentemente più lontani e anche a volte efferati del racconto, ci fa sentire delle assonanze, delle vicinanze, vuoi per il passato che hanno dovuto subire, vuoi per certe piccole loro idiosincrasie, per certe situazioni che si trovano a vivere, quindi per me è importante andare a ritroso anche nel tempo, cercare di capire com'era la loro famiglia, com'era il loro vissuto prima di arrivare a compiere quel gesto, prima di arrivare a prendere delle decisioni importanti. Credo che questo fa sì che il lettore entri nel libro e viva anche una parte della propria storia e non dimentichi quella narrazione e quei temi che vengono poi presentati. Prima di chiudere questa conversazione con Marina Di Guardo, io vorrei, seppur brevemente, ricordare Sergio Altieri, che con molto piacere lo ricordiamo con tanto affetto e che Marina Di Guardo ha citato nei ringraziamenti. Certo, io i precedenti due libri li ho dedicati a Sergio perché è stata una figura per me basilare, per di tutto un grandissimo amico che stimavo moltissimo, una persona di un'intelligenza, visionario, capace di anticipare davvero tanti elementi della scrittura moderna. Era appunto uno scrittore bravissimo, era uno sceneggiatore di fama mondiale, era un traduttore incredibile, a lui si deve la traduzione del Trono di Spade, ad esempio, ma era soprattutto una persona di una grande umanità, di una grande disponibilità e mi ha veramente aiutato tantissimo. Quando ero indecisa su che tipo di racconto volevo continuare, io avevo già scritto due romanzi che erano due drammi relazionali, ma quando ho avuto l'occasione stupenda di poterlo conoscere, perché l'ho presentato a Cremona e nell'occasione dell'uscita del suo penultimo libro, gli ho allungato il mio manoscritto, il mio secondo manoscritto che avevo già comunque dato alla casa editrice, la casa editrice con cui ho pubblicato i miei primi due romanzi e sapendo già che era semplicemente per avere un parere. A lui è piaciuto moltissimo e soprattutto è piaciuto moltissimo un finale noir inaspettato in un dramma relazionale che l'ha convinto in maniera decisamente forte e mi ha incoraggiato a proseguire su questo filone noir a thriller e mi ha detto davvero dovresti provarci perché hai la possibilità, hai il talento per poterti misurare con questo tipo di narrazione. Quindi ho seguito il suo consiglio e mi sono avvalza anche a tanti altri suoi consigli, tanti altri suoi suggerimenti, osservazioni. Mi ricordo il suo editing a Bamboli e Gemelle che è stato il mio terzo libro che poi è stato pubblicato con Feltrinelli, è stato essenziale davvero e mi ha insegnato più di mille scuole di scrittura. Quindi devo a lui tantissimo e non mi dimenticherò mai di nominarlo. Dress Code, Rosso Sangue è il romanzo che abbiamo attraversato in questa conversazione insieme con Marina Di Guardo che ringraziamo, ringraziamo davvero per il tempo che ci hai dedicato. Buon sabato. Io ringrazio Livio e tutti gli ascoltatori e buon sabato a tutti e buona lettura. Grazie.